Adesso questo lo deve sbagliare come ha chiesto Messina, ha chiesto parabola alta che abbia un arco, il tiro per sbagliarlo e dare la possibilità di rimbalzare un attacco a Milano. Vediamo se Ollo fa, eccolo qui, parabola alta, sbagliato, tocco, la prende Di Leni per la vittoria! Sbaglia Valcon Di Leni, ha vinto Real Madrid! Finale pazzesco al Mediolano, un forum, finisce 75-73 con Marco Vireni che addirittura fallisce il tiro della vittoria dall'angolo. Dopo l'errore, il Devonol sul secondo tiro libero che ha tenuto in piedi l'Olimpia, rivediamo. Sembrava dentro, sembrava dentro e invece è uscita. Finale pazzesco al Mediolano, un forum. Guardate qui!